Eeeeeee, benvenuti ragazzi, io sono Cd17 e oggi vi do il benissimo episodio di Fortnite. Come fu, se sentiate all'audio dagli scorsi video ho messo gli auricolari, solo perché c'era proprio voglia, e dopo aver detto una volta un po' di news, tra cui l'ultima, indomani, balla la tua danza ma macabra nel pacchetto che di febbraio, penso che avevo letto, eh? Sì, sì, avevo solito perché non c'è sempre la solita solfa. Oggi volevo leggere un bel po' di news. Cominciamo con la prima. Ah, anzi, 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 vi voglio leggere, ma tramite gli ultimi avvenimenti che ho pensato io, non vi leggo più, da adesso in poi, fino alla fine dei tempi, ehm, serve il mondo perché a chi può interessare lo leggete voi, a chi non interessa non lo leggete perché è a pagamento, il 50% delle persone che mi seguono se lo possono permettere, l'altro 50% delle persone magari non se lo possono permettere, quindi cominciamo subito a parlare di aggiornamento per il 6.20 della montagna creativa di Fortnite, perché infatti, forse è aggiornato. 1.2.2022 Dal team di Fortnite, con l'inizio del nuovo anno, l'aggiornamento del versione 5.20 si sta riscaldando, i PE guadagnati durante la calibrazione sono stati aggiornati per permettere ai giocatori di ottenere PE, anche quando si trovano su un'isola che sta venendo calibrata. Mentre i giocatori si accapigliano per conquistare quei PE, i creatori ora possono portare le loro creazioni a un altro livello, abilitando il fuoco sulle loro isle. Creatori, vi ricordiamo che il titolo per la documentazione della moneta creativa di Fortnite viene aggiornato ad ogni patch, con ulteriori informazioni, casi d'uso e spunti in merito ai progetti nuovi e aggiornati. Calibrazione PE Incomi, Preparatevi a condividere questa nuovissima notizia con i vostri giocatori e creatori. Stiamo migliorando l'esperienza relativa ai PE, o del battaglio reale. Come ormai sapete, le esperienze di metà creativa vengono sottoposte a una calibrazione, prima di poter iniziare a fornire PE pass battaglia dagli income nel gioco. Collegamento vs. Scena.20, se un giocatore aveva attivato un income prima che la calibrazione fosse completata, riceverà ricompensa i relativi PE non appena l'esperienza diventa disponibile. Inoltre, i creatori riceveranno una notifica tramite email sul fatto di calibrazione della propria esperienza. Requisiti Requisiti A giocatori che nei tutti i 30 giorni hanno partecipato a esperienze creative, mentre queste venivano sottoposte a calibrazione, potrebbero essere riconosciuti retroattivamente i PE, non appena tra le esperienze passano lo stato di calibrazione. Rescattare le ricompense I giocatori possono riscattare le proprie ricompense in PE quando accedono a Fortnite. Novità Forza della natura Fuoco Il fuoco è una forza della natura e ora i creatori possono abilitare effetti di fuoco nelle due esperienze. Inoltre, porteremo anche un nuovo armi da fuoco dal BR alla modalità creativa per la prima volta. Nei futuri aggiornamenti aggiungeremo altri modi per controllare il fuoco. Nuovi oggetti fuoco Arco fiammeggiante, primordiale, pistola razzi, luccele e tanniche di carburante. Novità Novità Carburante per i veicoli Swecio sulla pista per vincere la prova a tempo, ma non dimenticare di fare rifornimento. I creatori che vogliono davvero dare del filo da torcere ai veicoli nelle loro mappe ora possono includere tanniche di carburante per poterle rifornire nelle loro isole. Abbiamo aggiunto anche il dispositivo pompa di benzina, configurabile per permettere a giocatori di fare il pieno e ripartire. Novità Volume skydiving Se hai partecipato ad alcune delle nostre esperienze musicali potresti già conoscere gli effetti del volume skydiving, ma ora questo dispositivo è rifornire per tutti. Crea ascensori ad aria, galleria di eventi e tanto altro, mentre sperimenti con tutte le fantastiche funzionalità di questo nuovo dispositivo. Per tutte le informazioni abbiamo aggiunto il volume skydiving sul sito per la documentazione della modalità creativa di Fortnite. Novità Inserimento del numero di canale Un piccolo accanamento, ma che in realtà ha un grande impatto, ora puoi inserire direttamente il numero di canale quando imposti il sommettatore e il servitore su tutti i dispositivi. Anche i giocatori sul console possono beneficiare di una tastiera virtuale disponibile su tutti i dispositivi. Cercheremo di estendere il supporto per l'inserimento diretto del numero ad altre opzioni degli dispositivi negli attivamenti futuri. Aggiornamento del dispositivo sentinella La sentinella è il nuovo dispositivo che cambia categoria passando da trappola a oggetto, ma non è tutto. Abbiamo aggiunto un sacco di funzionalità alla nuova versione, incluso l'aggiunto di sentinelle alle squadre con il nuovo sistema ID, Inattività, allarme, ospedità e un mucchio di trasmettitori e ricevitori, dove per dare alle sentinelle nuova vita, divertiti. Per ulteriori informazioni abbiamo aggiunto il dispositivo sentinella sul sito per documentazione delle comunità creative di Fortnite. Aggiornamento dispositivi e obiettivi Il dispositivo e obiettivo sono stati aggiornati con le opzioni della libreria delle icone. E' stata aggiunta anche la nuova opzione, testo obiettivo personalizzato per permettere ai giocatori di personalizzare il nome dell'obiettivo sull'interfaccia. In collaudo, limite di generazione IA, che sarebbe l'intelligenza artificiale. Abbiamo aumentato il numero di fiere e animali, che possono essere generate in una volta da 20 a 30 di ogni tipo. Monitoreremo l'impatto sulle prestazioni e potremo aumentare o ridurre tale limite in base ai risultati ottenuti. Aggiornamenti per gli altri dispositivi Ora il dispositivo pulsante ha un filtro a classe. Aggiornate alcuni modelli nel modo in cui gli dispositivi non rivolgono ai giocatori. Aggiunto i seguenti nuovi modelli per l'espositivo personaggio. Avanguardia Oscura Viaggiatura Oscuro Robo Ray Brividai Infinito Gia Zero Driva Nevosa E Cuore delle Nevi Aggiunte i seguenti amali Eventare creativa Fucile pesante E una taglietta Stringer di Aculio Aggiornamenti prefabricate e gallerie Aggiunto un bucio da battaglia alla variante galleria Auto B Correzioni prefabricate e gallerie Risolto un problema a causa del quale varie risorse nella galleria oggetti santuari mostravano il materiale sbagliato o restituivano materiale e risorse errato. Risolto un problema a causa del quale una porta della galleria oggetti santuari faceva vedere cosa c'era al di là di essa. Risolto un problema a causa del quale alcuni tronchi o ceppi della galleria naturalmente nevata non rilasciavano il materiale e risorsa. Risolto un problema a causa del quale la galleria caverna e scogliera marroncini non generava i materiali e scogliera corretti. Correzioni ai spositivi Scarto oggetti I filtri applica alla squadra classe ora funzionano correttamente. Risolto un problema a causa del quale i spositivi impostazioni round si attivavano di un round anche quando disabilitato. Risolto un problema a causa del quale il proiettivo punto di salvataggio perdeva l'impostazione collidi con il terreno dopo essere stato copiato e incollato. Risolto un problema a causa del quale il proiettivo barriera aveva una hitbox maggiore di quanto previsto. Risolto un problema a causa del quale il telecomando segnale non attivava il canale primario o secondava correttamente. Correzioni isola Risolto un problema a causa del quale le impostazioni personali delle isole XL venivano sovrascritte dalle isole XL in evidenza. Correzioni di gioco I giocatori non tornano più al centro dopo essere stato terminati durante una partita in modalità creativa. Risolto un problema a causa del quale i giocatori venivano generati in cielo quando usavano la driftboard. Risolto un problema a causa del quale le barriche apparivano a scattoli sulla superficie dell'acqua quando non occupate. Risolto un problema a causa del quale il proiettivo assegnatore oggetti non aveva un tag di ordinamento per esistenza. Risolto un problema a causa del quale il proiettivo di Sky aveva un'icona EU sfocata. BR versione 1.20 di caverna celata e masche di Heaven. Risolto un problema a causa del quale il proiettivo di Sky aveva un'icona EU sfocata. Nella profondità delle montagne a nord di Campococcole è comparso un nuovo PDI Uro Tecnologico, caverna celata, naviga lungo il canale centrale e raccoglie materiale dalle nominevole strutture. Più è veloce che la caverna celata nasconda una versione mitica della mitralietta Stringer, che a quanto pare è molto più potente di quella normale e di conseguenza ha anche più rinculo. Tuttavia impossessartene non sarà per nulla semplice. Il vucile pesante ritorna con aggiornamenti pesantissimi. Il vucile pesante è stato trattato fuori dall'ammagrazione con qualche aggiornamento in più rispetto al capitolo 3. Ora spara un solo proiettile a una cittata più lunga e richiede più precisione, eccezionalmente affidabile e resistente. Usalo per ridurre le distanze o rispondere a una minaccia in arrivo. Tra il vucile pesante per terra nei forze rari e normali e nelle nuove conseguenze di fornimenti. Il nuovo fucile pesante è disponibile in tutte le rarietà. Nota, il nuovo fucile pesante non può penetrare bersagli multipli, cosa che invece il fucile pesante classico poteva fare. È solo un bug che verrà risolto in un aggiornamento futuro. Heaven mascherata Con la versione 5.20 inizia a sbloccare tutte le maschere del costume Heaven del pass battaglia capito 3.01. Come si sblocca nelle maschere di Heaven? Raccogli i piumi dei forze sull'isola, poi sprendili nella schermata maschera di Heaven della scheda di pass battaglia. Per poter riscattare ogni maschera dovrai completare un incarico speciale. Per esempio, puoi indire i pesci per sbloccare le maschere da gatta. Raccogli degli oggetti per sbloccare le maschere da cervo, prana per sbloccare quelle da gufe e tanto altro. Scopri gli incarichi per le maschere di Heaven nella schermata maschere di Heaven del pass battaglia. Ogni maschera può essere sbloccata fino alla fine del capitato genere 1. Nota bene, i giocatori devono procedere il costume Heaven prima di iniziare gli incarichi. Aggiornamento sui P.E. in creativa. Stiamo migliorando l'esperienza relativa ai P.E. oltre battaglia reale. Solitamente gli risultati creativi vengono sottoposti a una calibrazione prima di poter iniziare a fornire P.E. e dagli incoming nel gioco. Cosa che a volte può impiegare vari giorni. Con l'aggiornamento del versione Scenic.20 che se avevi attivato un incoming prima che la calibrazione fosse completata, ci verrà come ricompensa relativa ai P.E. non appena diventata possibile. Aggiornamento per previsioni. Le eventi atmosferici, Tornado e Fulmini sono stati raggiunti a risa squadre. Non è solo le competizioni. La metaglietta Stringer mitica non è inclusa nelle playlist competitive, tuttavia il fucile presante è immediatamente incluso. Sebbene oggetti nuovi tirati fuori dal magazzino vengono sottoposti a un periodo di rotazione prima di essere raggiunti alla pista competitiva, abbiamo fatto un'incezione con il fucile presante, perché la nuova versione di quest'arma è stata pensata per partite per giocatori molto abili. Come abbiamo annunciato negli avvisi della settimana, ora gli sparrani attivi di Spider-Man contengono 20 colpi e 10 kg e 80 nelle playlist competitive. Questa riduzione dei colpi dovrebbe incoraggiare i giocatori a prendere decisioni più strategiche, come quando decidono di usare quest'arma, pur mantenendo l'utilità dell'oggetto come potente su momento per spostarsi. Correazione bug maggiori Risolto un problema a causa del quale l'indicatore visivo per l'utilizzo del fulgono di review compareva a una distanza maggiore rispetto al suono. Risolto un problema a causa del quale le partite a volte non venivano registrate durante una sezione di tornei e i punti guadagnati in tali partite venivano persi. Risolto un problema a causa del quale le sparranate di Spider-Man li lasciate a due giocatori eliminati e aveva ancora tutti i colpi, anche se non era così prima che il giocatore venisse eliminato. Ultima news del video di oggi. Il mello verso, 5-esta con Marsha, Marshinobi e altro ancora. Un benvenuto nello mello verso, vedi già alla grande con Marsha, Marshinobi e altro ancora in Fortnite, 1-2-2022. Dal team di Fortnite, Rai ha anche iniziato con la festa con il costume Marshmallow, ma per continuare a diventare nel mello verso, la tiene il ritmo con i costume Marsha e Marshinobi, ciascuno con tutto necessario per festa. Inoltre vota per il brano di Marshmallow, non ancora pubblicato, che si adiede come futuro brano per l'hobby. Un benvenuto nel mello verso. Dal set, un benvenuto nel mello verso, disponibile dal negozio Getty a partire dal 2 febbraio 2002 alle 1 italiana, fai festa alla gane nei panni Marsha e vestiti a dovere come maestro marziale. Mello, Marshinobi. Se sei il tipo di persona a cui piace fare un salto di qualità, passa allo stile tostato del costume. Marsha nell'arbaglietto. O accessorio nel mello verso, chi si va bene a Marsha, illumina la festa con il dorso decorativo Mella, venuto con il costume, e il piccone Marshplendore. Insieme al costume Marshinobi, è inventata il dorso decorativo Lame a onda d'urto, da cui può sfonderare il piccone e la lama a onda d'urto incluso. Emote ritmo massimo. Non sarebbe il mello verso senza musica e balli. Con la musica di Marshmello, l'emosi da ballo di Joss 3000, quindi Joss 3000, latina con l'emote ritmo massimo. Scatentico con l'emote massimo. Vota per un futuro brano per l'hobby di Marshmello. Il mello verso si spanderà. Vota per il brano di Marshmello non ancora pubblicato e chiediti come futuro brano per l'hobby. Le votazioni sono già aperte. Vai su vote.marshmellmusic.com per scegliere tra due brani tratti dal suo prossimo album Joy Time Forth. Ah, non preoccuparti. Marshmello ha ricevuto un invito al party. Il costo di Marshmello, così come altri oggetti del classico di Sette Marshmello, tornando nel negozio a partire dal 2 febbraio alle 1 uo italiano. Forma una squadra marshmellosa come Marshmello, Marsha e Marshinobi. Qua ora italiano o italiana. Vuoi vedere in azione i nuovi costumi prima che siano nel negozio? Sintonizzate con il suo Marshmello mentre gioca a Fortnite con i costumi equipaggiati in diretta sul canale Amazon Music su Twitch a partire dal 1 febbraio alle 21 uo italiana. Tenete in occhi i canali social di Marshmello per scoprire con che giocherà. Ok ragazzi, video di Fortnite finito qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piacerebbe, mi raccomando, lasciate un bel video, lasciate i commenti, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, chiocela cd17-y-official, un bacione dal vostro cd17-official, è tutto, ciao!